E' stato illustrato ieri presso l'aula consigliare del comune di Battipaglia il progetto Studiare nel Verde, presentato da Confcommercio Battipaglia. Un sistema rigenerante per gli habitat scolastici che prevede la realizzazione di un polmone verde all'interno delle aule, per depurare l'aria e migliorare il benessere e la concentrazione degli alunni. Un modo per far diventare la natura la compagna di classe degli alunni ed abbattere l'inquinamento all'interno degli istituti scolastici, riconducibile anche ai materiali utilizzati per le varie attività. L'idea è quella di ricostruire un ambiente naturale anche in ambienti confinati come le scuole dove sono presenti bambini e ragazzi che sono i soggetti più sensibili, soprattutto a problemi legati all'inquinamento dell'aria confinata, negli ambienti confinati. Spesso quando sentiamo parlare di inquinamento la prima idea a cui pensiamo è l'inquinamento atmosferico, quindi ci viene in mente il buco dello zono, i problemi legati al traffico veicolare, non sapendo che l'aria negli ambienti confinati è molto più inquinata che all'esterno. Da questa consapevolezza nasce la volontà di trovare una soluzione a basso costo per poter migliorare l'aria degli edifici e utilizzare le piante per depurare l'aria. Le piante vengono utilizzate come elemento non decorativo unicamente, ma come un sistema che funziona per pulire l'aria. Sulla base di una ricerca effettuata dalla NASA già negli anni 80, da lì abbiamo iniziato a fare uno studio sulla fitodepurazione, applicato prima in un progetto utopico e abbastanza sperimentale nella casa e quindi nel residenziale, per poi incominciare a declinare questo studio attraverso la progettazione di questa libreria integrata con un sistema appunto di piante di irrigazione da posizionare sia negli uffici e naturalmente anche in ambiti scolastici. Battipaglia sta soffrendo molto, abbiamo una città dove di inquinamento se ne parla tutti i giorni, quale migliore occasione come questa? È nata da un incontro con veramente degli architetti e colleghi eccezionali del nord che hanno messo sul campo questo progetto tramite l'OIED che l'hanno realizzato e in altri spazi. Io lo voglio promuovere per le scuole di Battipaglia perché in Battipaglia c'è questo presso che deve essere realizzato nuovo, quindi costruendo un futuro sui bambini dalla scuola di prima infanzia fino ad arrivare alle scuole medie. Questo sicuramente può essere un'educazione ai bambini e un miglioramento all'interno dello spazio dove viene vissuto dai ragazzi. Ci credo molto in questo fatto. Non è detto che poi lo possiamo fare nelle strutture pubbliche, quelle sono le amministrazioni che ho invitato a partecipare proprio per questo tipo di intento, far conoscere questa, una cosa semplice, la facevamo nel passato, facciamola ancora oggi utilizzando le giuste piante. Un discorso abbastanza interessante, cose già sperimentate soprattutto nelle scuole del nord, nelle nostre scuole di Amicis è stata fatta una prova, ci è allestito un esempio di classe di chiusura, insomma è interessante, sono cose che sembrano futuristiche e invece non è vero. In un momento in cui noi parliamo di ambiente, di ambiente sano, anche questo si chiama fitodepurazione, cioè sfruttiamo le qualità delle piante del verde per creare un ambiente più sano e meno tossico.